Corri. Diamo il benvenuto al numero 5 e numero 6. L'aspettiamo molto da voi. Eccellente. Pronto? Mai. Che è successo? Aiutami! Perché ci fate questo? Tu lavori con loro. Godetevi la corsa. Per ora è tutto. Per quanto il genere action forse vi può interessare sapere che il primo stuntman ad Hollywood fu l'ex cavalleggero Frank Hannaway che fu nel cast del western The Great Train Robbery del 1903 per la sua abilità di cadere da cavallo senza mai farsi assolutamente niente. E invece la prima donna stunt fu Helen Gibson che fece da controfigura a Helen Holmes nei primi 26 episodi di The Hazards of Helen, serial muto del 1914. Si formò come cavallerizza e poi fu moglie del campione di rodeo e di grandi star di film western, Huth Gibson. Lo sapevate? E voi chi vorreste come vostra controfigura? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao!